Siete ministri dell'unità nella Chiesa, non rifiutate mai il battesimo a chi lo chiede, non stancatevi di essere misericordiosi, soprattutto nel confessionale. Sono alcune delle raccomandazioni che Papa Francesco ha rivolto a 19 diaconi della Diocesi di Roma, ordinati nella Basilica di San Pietro nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ai nuovi sacerdoti il Pontefice ha chiesto di non essere pavoni, ma di essere fedeli testimoni del Vangelo di Cristo, perché l'esempio edifica, mentre le parole senza esempio sono vuote, semplicemente idee che non arrivano mai al cuore e addirittura fanno male. Ai presenti Papa Bergoglio ha poi chiesto di celebrare la Messa non in fretta, ma partecipando al Ministero della Morte e Rissurrezione del Signore, di non pronunciare omelie noiose e di avere sempre davanti agli occhi l'esempio del Buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire, non per rimanere nelle sue comodità, ma per uscire, cercare e salvare ciò che era perduto. E io, in nome di Gesù Cristo, il Signore, e della Sua Sposa, la Santa Chiesa, vi chiedo di non stancarvi di essere misericordiosi. Nel confessionale, voi sarete per perdonare, non per condannare. Imitate il Padre, che mai si stanca di perdonare.